Oggi siamo qua su Star Stable online con il mio starter perché comunque mi sono da sottovalutare anche se ho altri cavalli di genovazione 3 e ne approfitto delle offerte del puzzle per... Sì vabbè, passatemi davanti eh, per prendermi un pony, perché non ho un pony. Adesso io ho 466 Star Coins, infatti andrò a prendere il pony con un nome strano, e lo chiamo così perché ha una tipo... C'è un motivo di prendere. Il pony in hotland era carino, però costava troppo. Quindi, assoluto che comunque mi serve, non è che voglio aspettare la giornata di settimana perché voglio andare a portare il contesto. Quindi, ecco. Ecco, questa razza qua. Vediamo, questo non mi piace niente. No, non ci trovo il senso. Questo che è quello che andrò a prendere. Comunque andiamo a vedere anche gli altri colori, le altre razze, cioè gli altri mandi. Anche questo è molto 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 carino. Però, non avendo un pony bianco, ho riuscito di prendere lui. Anche lui è bello 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 proprio. Anche lui è carino eh. E poi c'è lui che è veramente un colore stranissimo, roma e rosso. Però vado sì su questo. Si ha già il colore, queste sono le andature. Ok. La criniera, allora gli stava bene anche questa, però no, non gliela cambio. Quindi io andrei a prenderlo. Ok, allora il nome lo sapevo di già. Quindi Lady Moon. La metterò, cioè la metto giù in te. E poi Eterna perché la voglio che duri, c'è insomma. Quindi l'acquistiamo. Oddio, sono emozionatissima. L'acquistiamo. Eccola. Sì, sì, sì. Siamo pronta. Vai. Oh mio Dio, che carina. La mando in stalla che faccio le cose per bene. E Lady Moon è ufficialmente nostra. Che felicità. Wow. Adesso appunto andiamo in stalla e per questo video è finito. Ciao.